Regione, ecco i primi quattro assessori, Oliverio chiama in giunta Ciconte, Guccione, Lanzette e De Gaetano. Si tratta, detto, di una squadra che lo accompagnerà per almeno i primi cento giorni, tra due mesi e gli altri tre assessori. La Mezzia, delitto Gigliotti, le piste, dopo il brutale agguato in cui è perso la vita il giovane imprenditore edile, gli inquirenti non trascurano alcune ipotesi, a cominciare da una possibile vendetta legata ad una truffa o a giri d'usura. Antimafia, nuovo colpo ai Patania, carabinieri di Diadi Catanzaro, assestano il sequestro sui patrimoni del clan di Stefanaconi. I sigilli hanno interessato un compendio di beni mobile e immobili per circa 3 milioni di euro. Falcomatà, difendiamo Reggio Calabria, il sindaco invita alla mobilitazione. Il monito questa mattina durante la conferenza stampa indetta dal primo cittadino per parlare del depotenziamento del decreto Reggio. Vibo, scopre il caso dei buoni mensa. La Feder Consumatori presenta una petizione sui buoni mensa delle scuole primarie. Procedure in danno dei bambini e il comune replica non possiamo farci nulla. Teatro, aggiunge un posto arrendano, tutto esaurito e plausi a scena aperta per la commedia di Garainè e Giovannini. Lo spettacolo inserito nel suggestivo cartellone in prosa del Teatro Cosentino. Buon lunedì e bentrovati dal telegiornale della C, come avete appena sentito dai titoli di apertura. Il governatore Oliverio ha ufficializzato la prima parte della sua squadra. Gli esterni sono già il ministro, Maria Carmela Lanzetta e Nino De Gaetano. Ci Conte sarà il vicepresidente della Giunta e Guccione assume la delega al lavoro. Sentiamo. Giunta regionale atto primo. Il presidente Mario Oliverio ha ufficializzato i nomi dei primi quattro assessori che lo accompagneranno. Ha annunciato almeno per i primi 100 giorni di attività amministrativa. Tra 60 giorni, d'altronde, dopo la seconda lettura alla riforma dello statuto, arriveranno gli altri. Enzo Ciconte, catanzarese, sarà il vicepresidente della Giunta ed assessore al bilancio. Carlo Guccione, Cosentino, assume invece la delega al lavoro. Sorprese annunciate gli esterni. Maria Carmela Lanzetta, ministro agli affari regionali e uscente di Monasterace, sarà assessore alle riforme e Nino De Gaetano, regino, è il nuovo assessore alle infrastrutture e ai trasporti. Salvaguardati gli equilibri territoriali tra le macro province, l'ingresso nell'esecutivo di Nino De Gaetano, che nelle ultime settimane è stato al centro di un caso mediatico giudiziario, lancia le quotazioni del vibonese Michele Mirabello, che appare favorito su Sebi Romeo per la designazione alla carica di capogruppo. In alternativa, qualora fosse Romeo a guidare il gruppo DEM a Palazzo Campanella, Mirabello andrebbe a presiedere la commissione bilancio. Ovviamente, al momento del completamento della Giunta, si legge nella nota della Regione, in coerenza con la norma statutaria che prevede la rappresentanza di genere, la presenza femminile sarà designata in una quota almeno del 30%. La prima riunione della nuova Giunta regionale è convocata per domani a Palazzo Alemanni. E sulla nomina dei quattro nuovi assessori regionali da parte del Presidente Mario Liverio, ecco l'editoriale del nostro direttore Pietro Comito. Il Presidente della Regione, Mario Liverio, ha ufficializzato la prima parte del suo nuovo esecutivo. Si tratta di quattro nuovi assessori, due interni e due esterni. Il resto della Giunta sarà ufficializzata fra circa due mesi, quando saranno incassati gli effetti della riforma dello Statuto. Tra i nuovi assessori c'è Nino De Gaetano. Nino De Gaetano che è stato al centro, nell'ultima settimana, di una singolare querelle di carattere politico, mediatico, giudiziaria. Una querelle che scaturisce da una serie di elementi risalenti nel tempo, a circa cinque anni fa, che già all'epoca non ebbero alcun profilo di gravità indiziaria tale da indurre la procura di Reggio Calabria a spiccare un provvedimento di garanzia nel confronto dello stesso politico reggino, tanto più a richiedere ad un giudice terzo l'emissione di un provvedimento cautelare. Nonostante ciò, si è ragionato a lungo, si è discusso a lungo, si è polemizzato a lungo sull'opportunità che Oliverio potesse o meno inserire lo stesso De Gaetano all'interno del suo nuovo esecutivo. Il Presidente Mario Liverio ha deciso invece di proseguire per la sua strada. Secondo una visione garantista delle cose, Nino De Gaetano in fondo non è un politico indagato, dovrebbe cambiare quindi la rappresentazione mediatica delle cose, una rappresentazione mediatica delle cose che non può più alimentare il germe del sospetto attraverso una macchina del fango che finisce col devastare la vita delle persone. In Calabria la giustizia ha fatto grandi passi avanti nella lotta alla criminalità organizzata e noi siamo dalla parte dei magistrati, in particolare di quelli di Reggio Calabria che sia sotto la guida del Procuratore Pignatone, sia sotto la guida del Procuratore Caffiero De Rao sono stati e sono tuttora un baluardo per il riscatto di questa terra. Però dobbiamo ragionare sulla rappresentazione mediatica che alcuni dettagli di certe inchieste hanno rispetto non solo alla politica ma alla vita del cittadino. Noi abbiamo visto soggetti, persone, dalla vita devastata, dall'emissione di un avviso di garanzia che poi, che conteneva accuse che magari non sono mai approdate ad un approfondimento giudiziario perché quelle stesse accuse non avevano pregnanza o riscontro di carattere anche indiziario. Mentre in altre circostanze abbiamo visto dei soggetti per i quali non abbiamo certo bisogno di una sentenza passata in giudicato per attestare la mafiosità, invece venire assolti con formula piena da alcuni tribunali di questa terra. Allora la rappresentazione mediatica dovrebbe riflettere un po', dovrebbe riflettere un po' ed evitare molto spesso determinate distorsioni che fanno male a questa terra. Noi concludiamo questo intervento nella consapevolezza che dobbiamo avviare un percorso nuovo, che è anche un percorso di tipo culturale, non solo politico e auspichiamo veramente che con queste scelte il governatore Oliverio possa sinceramente, come abbiamo detto in premessa, avviare quel processo di cambiamento per questa regione che non può più aspettare. E sulla designazione dei primi quattro assessori regionali interviene il segretario nazionale della CISAL Franco Cavallaro. Con l'iniziativa del presidente Mario Oliverio, dice il sindacalista, la regione Calabria avvia la sua attesa sfida e manda i suoi primi segnali per realizzare l'atteso programma di rinnovamento. Il governatore, aggiunge Cavallaro, premia Enzo Ciconte e lo colloca al suo fianco come vice e con deleghe di assoluta preminenza. Decide di contare sulle esperienze e capacità interpretativa di Carlo Guccione. Affida all'ex ministro Carmela Lanzetta settori di importante attualità e invita Nino De Gaetano a promuovere un'eccellente iniziativa in un campo dove la Calabria gioca anche la sua scommessa. Voltiamo pagina perché proseguono a 360 gradi le indagini sull'agguato in cui ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica alla Mezzia Domenico Maria Gigliotti. Le piste da seguire potrebbero essere diverse dalla presunta truffa messa in essere dall'Agenzia di Viaggi della Moglie ad un giro di usura finito male. Per noi Tiziana Bagnato. E' ancora un giallo la brutale eseguzione avvenuta nella notte tra sabato e domenica alla Mezzia a danno di un giovane imprenditore edile Domenico Maria Gigliotti. I killer lo hanno aspettato sotto casa e quando questo è arrivato intorno alle 4 del mattino gli hanno sparato diversi colpi di arma da fuoco e poi hanno cosparso l'interno dell'abitacolo della sua auto di liquido infiammabile carbonizzandone così il corpo. Le indagini procedono a 360 gradi anche perché a quanto pare di elementi da tenere in considerazione ce ne sarebbero parecchi. Gigliotti era stato sfiorato dall'inchiesta Medusa, il suo nome fatto da diversi collaboratori di giustizia anche se non con posizioni di primo piano e l'Agenzia di Viaggi della Moglie aveva visto pochi mesi fa le fiamme gialle apporre i sigilli per una vicenda legata ad una presunta truffa relativa a crociere fantasma. Gigliotti era stato anche destinatario di un daspo in seguito ad una lite avvenuta in uno stadio lametino e la sua ditta di costruzioni, l'AGS, pare avesse ricevuto diverse perquisizioni da parte delle forze dell'ordine. A far riflettere gli investigatori sono le modalità dell'omicidio, un agguato compiuto con feroce e brutalità con un accanimento sul corpo già senza vita. Insomma una tipica modalità mafiosa. Non si esclude che Gigliotti fosse finito in un giro d'usura ma nemmeno che gli appalti vinti dalla sua ditta di costruzione facessero gola a qualcuno. E ancora cronaca, i carabinieri di Vibo Valencia hanno eseguito il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP di Catanzaro sui beni del presunto clan Patania di Stefanaconi. Sigilli a beni immobili e immobili per circa 3 milioni di euro. Per noi Cristina Iannuzzi. All'alba di stamattina i carabinieri di Vibo Valencia hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Catanzaro che ha colpito i beni della presunta cosca andranghetista dei Patania di Stefanaconi per un valore di circa 3 milioni di euro. I Patania disarticolati grazie alle maxi operazioni gringia, dietro le quinte e romanzo criminale sono attualmente sotto processo oltre che per associazione a delinquere di tipo mafioso anche per omicidi, usura, estorsioni e danneggiamenti tutti aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa. Tra i beni sotto sequestro anche un'attività ricettiva e in particolare la stazione di servizio Valle dei Sapori, teatro del cruento delitto del patriarca fortunato Patania. L'aggressione dei patrimoni segue le inchieste su una faida di indrangheta segnata da diversi omicidi e tentati omicidi nel territorio provinciale che si sarebbe dipanata con la regia del clan Mancuso. I dettagli dell'operazione condotta stamattina sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato i vertici del comando provinciale dell'arma di Vibo e il procuratore capo di Catanzaro Antonio Vincenzo Lombardo il cui ufficio ha ottenuto dal GIP il via libera ai sequestri. È stata evidenziata nel corso dell'incontro la sproporzione tra i patrimoni posseduti e la capacità reddituale dei Patania. E sul sequestro di beni al clan Patania ascoltiamo le dichiarazioni rilasciate a margine della conferenza stampa dal procuratore di Catanzaro Lombardo e dal colonnello Scardecchia. L'aggressione patrimoniale è il secondo elemento se non il più importante come potrebbe essere come strumento di lotta alla criminalità organizzata. Quando noi all'indrangheta togliamo non sempre naturalmente ci riusciamo e non sempre riusciamo a sottrargli tutto l'arricchimento illecito ma quando noi gli sottraiamo una villa, gli sottraiamo un'azienda anche sul piano simbolico questo acquisisce un'importanza straordinaria. Naturalmente i beni devono essere sottratti realmente e non attraverso le vecchie custodie diventare un'apparenza soltanto. D'altro canto non posso non ricordare che un autorevole dottrina disse che il 416 bis è la criminalità organizzata a cui esso si riferisce che da che cosa è costituita? L'andrangheta potenza militare e potenza economico-finanziaria. Non poteva sfuggire a noi la sproporzione che vi era tra i beni nella disponibilità di costoro e i redditi dichiarati. Questo ci ha portato a fare degli approfondimenti, a fare delle indagini patrimoniali accurate che oggi si sono concluse con il sequestro di immobili per 3 milioni di euro. Mi piace ricordare che tra questi immobili c'è anche il distributore di benzina, la Valle dei Sapori posto nella Valle del Mesimo con annesso albergo e ristorante che era un punto di ritrovo dei sodali dove tra l'altro venivano anche studiati a tavolino e decisi gli omicidi. Saranno sentiti domani dal giudice per le indagini preliminari di Castrovillari le persone destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare nell'inchiesta Medical Market. In particolare il giudice sentirà la mamma del nascituro lasciato morire, il medico e le altre due persone coinvolte nell'infanticidio. Elvira Madregrano. Dalle indagini che hanno portato alla scoperta della maxitruffa le assicurazioni nell'ambito dell'operazione Medical Market che da tempo si compieva a Corigliano e che ha portato all'arresto di sette persone continuano ad emergere particolari raccapriccianti. Il caso del bambino fatto nascere in una simulazione di un incidente e poi lasciato morire non sembra sia stato l'unico. Gli inquirenti infatti stanno verificando la posizione di altre donne che avrebbero abortito a seguito di incidenti stradali ma che lascerebbero supporre la simulazione degli infortuni e la volontà di abortire al fine di ottenere i soldi delle assicurazioni proprio grazie alla morte del feto. Una pratica che ha portato l'osservatorio sui diritti dei minori presieduto da Antonio Marziale a definire questo comportamento come tecniche di soppressione nazifasciste e il presidente della regione Mario Liverio a disporre un'indagine interna all'ospedale di Corigliano al fine di verificare eventuali responsabilità. Intanto domani iniziano gli interrogatori. A comparire dinanzi al GIP del Tribunale di Castrovillari, Letizia Benigno, saranno Stefania Russo, la mamma del piccolo lasciato morire, l'amica Anunziatina Falcone, il medico del pronto soccorso Sergio Garasto e l'intermediario Pietro Andrea Zangaro. I quattro devono rispondere dell'accusa di omicidio volontario. Un anno è appena sospesa. Questo è il pronunciamento della Corte d'Appello di Reggio Calabria per Pasquale Tripodi, ex assessore consigliere regionale. Si tratta di una sentenza che ha ribaltato la pronuncia assolutoria di primo grado che l'aveva scagionato dall'accusa di avere indicato una casa residenza per ottenere una quota maggiore di rimborsi elettorali. La contestazione mossa nei suoi riguardi era quella di Truffa. La difesa dello stesso Tripodi ha annunciato ricorso in Cassazione. Beni immobili e altre attività per un ammontare complessivo di 825 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Crotone ad un imprenditore di Isola Caporizzuto, indagato però messa a dichiarazione. I sigilli sono scattati in esecuzione di un decreto emesso dal GIP pitagorico Michele Ciociola, su richiesta del PM Alessandro Riello. L'imprenditore era finito al centro di un'inchiesta per un'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, nonché per la distrazione dell'attivo patrimoniale in danno dei creditori. I finanzieri del gruppo di Gioia Tauro, unitamente funzionali dell'Agenzia delle Dogane, hanno proceduto a sequestrare un container proveniente dalla Cina carico di 10.000 giocattoli con noti marchi contraffatti. L'operazione condotta dalla Procura di Palmi ha portato al controllo di numerosi container imbarcati dal porto cinese di Shantouro. La merce era destinata formalmente in Montenegro. I giocattoli, oltre che contraffatti, risultavano, rende nota la Guardia di Finanza, pericolosi per i bambini. Grave incidente stradale domenica pomeriggio sulla 3. Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Montalto, Fugo e Torano. Tre le autovetture coinvolte, tre anche le autoambulanze del 118 che sono intervenute, due delle quali sono rientrate all'ospedale civile dell'annunziata di Cosenza in codice rosso. Uno dei feriti è stato trasportato in stato di incoscienza, l'altro con difficoltà respiratorie. Le loro condizioni sono ancora gravi. Ed ora la pagina del lavoro. Il deputato del PD, Nicodemo Oliverio, interviene a sostegno dell'avvertenza che interessa i dipendenti dell'amministrazione provinciale di Vibo e annuncia un'iniziativa parlamentare. Sentite. Non possono pagare i dipendenti gli errori della politica. Occorre garantire i loro diritti. Presenterò interrogazione parlamentare urgente. Interviene così il parlamentare Dem, Nicodemo Oliverio, sul futuro dei dipendenti della provincia di Vibo Valencia che nei giorni scorsi, unitamente ai colleghi di Biella, si sono recati a Roma per manifestare il loro disagio per il mancato pagamento degli stipendi e per il loro eventuale supero. La causa di tutto ciò è da ricercarsi nel dissesto finanziario dell'ente e nell'applicazione della legge del Rio. Una condizione questa, spiega Nicodemo Oliverio, che aggrava la situazione generale, già fortemente compromessa da una norma che prevede la drastica riduzione del personale che a breve dovrebbe andare in mobilità. Una sfida contro il tempo, soprattutto in vista dell'approvazione dei bilanci, le cui difficoltà rischiano di decretare il definitivo collasso dell'ente, vittima anche dei corposi e continui tagli dei trasferimenti finanziari da parte dello Stato. Una trasferta romana supportata dalle rappresentanze sindacali, nonostante le oggettive difficoltà emerse, è stata sicuramente positiva, ha concluso il parlamentare del Partito Democratico, in quanto il problema è stato rappresentato con determinazione al Governo e al Parlamento. Mi farò portavoce delle ragioni di questa avvertenza, presentando nei prossimi giorni un'interrogazione parlamentare, chiedendo al Governo di farsi carico di questa grave vicenda. A Vibo Valencia scoppia il caso dei buoni mensa scolastici. Feder Consumatori presenta una petizione per chiedere al Comune di snellire le procedure perché troppo dispendiose e noi abbiamo interpellato la dirigente dell'ufficio, il servizio di Cristina Iannuzzi. Hanno presentato una petizione con oltre 150 firme, protagonisti un centinaio di genitori che si sono rivolti alla Feder Consumatori per denunciare una strana quanto complicata procedura messa a punto dal Comune di Vibo Valencia. Stiamo parlando del servizio mensa, dell'asilo comunale e in particolare dell'acquisto dei buoni pasto per i bambini. Fino allo scorso anno i cedolini si acquistavano in un apposito ufficio. Quest'anno invece occorre recarsi alla posta per effettuare un versamento e attendere pazientemente il proprio turno. Prima dobbiamo fare la fila all'ufficio postale, pagare il bollettino, poi andare al Comune, prendere questi buoni postali e riportarli qui, insomma, a scuola. Questo che cosa comporta? Comporta una perdita di tempo non indifferente, soprattutto per le mamme che lavorano. Io per esempio mi devo prendere almeno un'ora di permesso per poter fare questo discorso. Per molte persone è abbastanza dispensioso perché si spende oltre un'ora e trenta di tasse. Una situazione insostenibile per i genitori che hanno così deciso di rivolgersi attraverso l'Associazione dei Consumatori alla dirigente del Comune Adriana Teti. Dobbiamo adeguare a quelle che sono le normative. Le normative dicono che non si può maneggiare soldi, quindi abbiamo dovuto evitare tutto ciò che sono maneggio economico. Quindi ci sono nuove norme, c'è la spending review e quindi noi non possiamo autorizzare i dipendenti a maneggiare soldi e dobbiamo fare un metodo che sia neutrale. Quindi non è che sicuramente i genitori hanno delle difficoltà, ma io devo adempiere a quella che è la normativa, quindi non è che possiamo tornare indietro. Dunque cosa risponde ai genitori? Purtroppo non posso fare niente. Poi i genitori hanno dei suggerimenti, ma sempre non che qui al Comune maneggiano i soldi, altri suggerimenti di un'altra forma di pagamento, poi che ormai si può anche poi, questo l'anno prossimo. Si avvicinano le elezioni amministrative per la Mezzia Terme. La città della Piana dovrebbe andare al voto a primavera dopo dieci anni di governo di centrosinistra con Gianni Speranza. Eppure l'assetto della competizione è ancora tutta da definire. Tiziana Bagnato. Mancano una manciata di mesi alle elezioni amministrative di la Mezzia. Una competizione attesa che seguirà dieci anni di governo di centrosinistra targato Gianni Speranza. Eppure l'assetto che dovrebbe correre verso la fascia tricolore stenta a prendere forma. Sembra di assistere ad una partita d'ama in cui le pedine continuano a disegnare nuove geometrie e a volte addirittura anche a scegliere se essere bianche o nere. Perfino dal Partito Democratico nessun nome è ancora certo, anche se nelle ultime settimane sta serpeggiando con insistenza l'ipotesi di una candidatura della parlamentare ed ex sindaco Doris Lomoro. Il delfino di Speranza Rosario Piccioni, che da tempo ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco Consell, di cui è stato anche segretario cittadino e di cui è figura di spicco da anni, sembrerebbe stia compiendo movimenti sotto banco verso un nuovo movimento cittadino, città delle idee. Punta alle primarie anche Francesco Grandinetti, attuale presidente del Consiglio Comunale. Candidato alle scorse elezioni con il terzo polo, poi dirigente del partito di Gianfrancofini, si è avvicinato al sindaco durante la fase del paventato di sesto finanziario, contribuendo con il suo voto in Consiglio ad evitarlo. Sul fronte del centrodestra, invece, il presidente della Fondazione Calabria Etica, Pasqualino Ruberto, ha da tempo iniziato la sua campagna elettorale, sostenuto dal consigliere regionale Nazareno Salerno, che lo ha proposto al suo partito Forza Italia come candidato di raccordo di tutta la coalizione. Ma il partito berlusconiano punta anche su Paolo Mascaro, avvocato, ex presidente della Vigor Lamezia, mai tesserato. La partita è decisamente ancora aperta e tutta da giocare. Nessuna pedina è stata ancora mangiata. Ci spostiamo a Reggio Calabria, dove il sindaco Giuseppe Falcomatà invita tutti, forze politiche, locali e nazionali, cittadini e operatori dell'informazione, a fare una battaglia unitaria in difesa di Reggio Calabria e della sua immagine. Il monito è scaturito questa mattina al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, durante la conferenza stampa indetta sul depotenziamento finanziario del decreto Reggio. Per noi c'era Antonella Chirico. Dobbiamo ridare credibilità a Reggio agli occhi del Governo nazionale di tutte le istituzioni. È l'appello lanciato dal primo cittadino della città dello stretto, Giuseppe Falcomatà, che questa mattina ha incontrato i giornalisti per parlare degli ultimi sviluppi del decreto Reggio. Se è vero da un lato che non possiamo assolutamente consentire che sia fatta questa forma di depotenziamento e definanziamento del decreto Reggio, è allo stesso tempo opportuno interrogarci sul perché questa decisione è stata presa dal Governo nazionale. Davanti ai cronisti il Sindaco ha sottolineato che il piano dei lavori in capo al decreto Reggio è un vero e proprio bollettino di guerra. Opere che ancora oggi non hanno visto la luce per diversi motivi. Le cause sono diverse, ha affermato. Rimodulazioni, sal non pagati, transazioni, ditte che hanno abbandonato i cantieri. E cosa sconvolgente, molte opere sono in fase di progettazione. Vi è di più però, perché nonostante, anche se non ci fosse stato questo definanziamento, noi oggi non potremmo attingere un euro dalle casse del decreto Reggio, che va spiegato ha un bilancio diverso rispetto a quello del Comune, perché una ditta, in particolare la ditta Lafa 3 del progetto integrato di Mortara, ha fatto un pignoramento e adesso c'è una procedura esecutiva che ha visto il nostro Comune inerte non difendersi come doveva per bloccare questa procedura. Naturalmente faccio riferimento a attività che il Comune avrebbe dovuto svolgere in passato. Quindi comunque sulle casse del decreto Reggio ad oggi non arriverà un euro, perché quell'euro sarebbe pignorato dalla ditta che ha fatto la procedura esecutiva. Dal sindaco di Reggio Calabria al sindaco di Crotone, Peppino Vallone, che annuncia di voler sospendere i lavori nel Parco archeologico di Capocolonna, lo dichiara il deputato pentastellato Paolo Parentela. Sentiamo. Dopo le polemiche e le proteste degli ultimi giorni, il sindaco di Crotone, Peppino Vallone, ha dichiarato di voler sospendere i lavori del Parco archeologico di Capocolonna, fino all'esito delle verifiche in corso da parte degli ispettori ministeriali. Dal primo cittadino rappresenta una vittoria, ha affermato il deputato pentastellato Paolo Parentela. Il presidio spontaneo del comitato Salviamo Capocolonna ha raggiunto l'obiettivo di far cambiare idea al sindaco, che si è finalmente reso conto dello scempio in atto nel Parco archeologico. È stata vinta una battaglia, continua il deputato pentastellato, ma la guerra è ancora lunga. Il comune di Crotone, infatti, può solo sospendere i lavori in attesa della decisione finale, che spetta al ministro dei beni culturali. Parentela ha anche affermato quanto siano ancora lunghe le battaglie che i cittadini calabresi attivi e informati devono ancora combattere per difendere i beni comuni e spera che l'esperienza di Capocolonna sia d'esempio per tutti. La Calabria, conclude, avrà occasione di vero rilancio solo se i cittadini smetteranno di dare carta bianca alla politica e inizieranno a interessarsi attivamente del proprio territorio. Non ci resta dunque che attendere l'arrivo degli ispettori, sperando che il patrimonio archeologico di Capocolonna continui a rappresentare il cuore e le radici della nostra storia per sempre. Firmato un protocollo interistituzionale dall'azienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria e l'Istituto Comprensivo Statale Falcomata di Archie, avente come scopo quello di erogare servizi innovativi ad alto valore tecnologico di psicologia, psicoterapia, istruzione e formazione. E' stato siglato questa mattina un protocollo interistituzionale dall'azienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria e l'Istituto Comprensivo Statale Falcomata di Archie. L'intesa, finalizzata all'accordo di programma Scuola e Salute, è stata presentata in conferenza stampa dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Vincenzo Sidari, da responsabile scientifico Concettina Siciliano e da responsabile per l'Istituto Falcomata Serena Corrado. Scopo dell'iniziativa, totalmente a costo zero, è l'erogazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico di psicologia, psicoterapia, istruzione e formazione. Il fine principale è la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema integrato di servizi per gli individui e la famiglia. Si parte con il progetto Scuola e Salute, a ridosso della settimana della genitorialità, con la prevenzione ed il benessere dell'individuo in età pediatrica. Il direttore Sidari ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, firmata al momento dall'azienda e da alcune associazioni cittadine, ma che resterà aperta a qualunque ente voglia partecipare, in primis il Comune, ma anche la provincia e tutti coloro che si considerassero interessati. Aggiunge un posto a tavola l'indimenticabile commedia di Garinè e Giovannini, spettacolo inserito all'interno del cartellone Rendano in prosa, ha incontrato il positivo consenso del pubblico. Elvira Madregrano Un ritornello impossibile da dimenticare che ha canticchiato tutto il teatro Rendano, portato alla ribalta da Johnny Dorelli nel 1974. Aggiunge un posto a tavola, dopo 40 anni riscuote ancora enorme successo. Il musical è inserito nel cartellone della stagione di prosa del Rendano, che sta registrando il favore del pubblico ad ogni appuntamento. Per lo spettacolo, aggiunge un posto a tavola, biglietti esauriti in due giorni. Cioè, sembra stato scritto ieri e non 40 anni fa, perché ci sono delle musiche accattivanti che sono conosciutissime. Credo che tutti nella vita abbiamo detto almeno una volta, aggiunge un posto a tavola anche solo per scherzare. E poi da parte nostra c'è stato un grosso entusiasmo, un grosso impegno, soprattutto sulla qualità. Lo spettacolo è tutto cantato dal vivo, anche nelle parti corali, e c'è una ventata di energia e di freschezza, perché c'è un cast molto giovane. Non abbiamo nomi famosi, abbiamo scommesso proprio sulla qualità dello spettacolo. Signore, perdonami se non ho saputo fare la tua volontà. Non succederà mai più. Ora però ti prego, non ci abbandonare. Gestone, aggiungi un posto a tavola. Non vedi che sto arrivando? A Vibo Valencia entra nel vivo l'iniziativa Vivilandia, promossa dall'Associazione Civico Solidare Promotors. Idee, proposte e azioni concrete per dare un futuro più roseo al territorio provinciale. Questo l'obiettivo principale dell'iniziativa. Sentiamo. Ali di Farfalla, il titolo del progetto solidale presentato ieri all'Istituto Comprensivo Statale di Stefanaconi, che vedrà coinvolti i bambini dei 50 comuni del Vibonese. Promotore dell'iniziativa il Comitato Civico Sopravvivenza, presieduto da Vincenzo Neri. Obiettivo? Quello di diffondere nei più piccoli il senso civico e la solidarietà, attraverso la farfalla, simbolo di libertà e grazia. Così, ieri, in una sala gremita, tantissime farfalle colorate hanno fatto da cornice alla manifestazione. Questo progetto civico solidale prevede che nell'intera provincia di Vibonese, per tutti i 50 comuni, si realizzino delle manifestazioni sollecitando le istituzioni, quindi le giunte comunali, i consigli comunali, le parrocchie, le scuole, perché i bambini esprimano, mediante un'elaborazione grafica, progetto Ali di Farfalla appunto, quello che è il modo di vedere la vita a colori. Vivilandia sarà l'occasione per mettere a fuoco i principali problemi della città, ma anche per lanciare proposte, idee, azioni future per un paese a misura di bambino. 5 su 50 comuni nel 2014 si sono laureati i comuni pilota per il 2015 del progetto Vivilandia. Primi fra tutti in assoluto il comune di Stefanaconi e di Francavilla-Angitola. Siamo veramente felici che lo start-up di Vivilandia inizia proprio qui a Stefanaconi. Ora vi lascio allo Sport News condotto da Alessio Bompasso e vi ricordo l'appuntamento con la nostra informazione questa sera alle 20. Arrivederci. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.